Io faccio questo parallelo, la costruzione per me è un malato, quindi io mi devo mettere di fronte a quella costruzione come un medico, purtroppo con uno svantaggio che quel malato non parla. Per il restauro di questo tempio antico, in questa applicazione si voleva avere un composto, una malta che si poteva carbonatare molto più facilmente rispetto alla calce che si usa nelle malte tradizionali. Quindi l'uso di Nanotaitania ha portato a realizzare appunto questo obiettivo. Ciao! Che cosa succedeva? Ovviamente finito un cantiere gli operai andavano a casa, il giorno dopo ritornavano e per allettare il cantiere successivo stendevano un altro strato di malta sul ripiano. E quindi il cantiere viene spesso definito anche dalla giusta posizione di due strati di malta che poi per schiacciamento e per essiccazione in momenti differenti, perché uno si è consolidato il giorno prima, l'altro successivamente, vengono a mettere in evidenza proprio questi orizzontamenti. La giuratura è la parte strutturale di questi edifici storici. L'approccio che dobbiamo avere lo conosciamo, è un approccio visivo basato però sulla regola dell'arte di Giuffré, quindi sui parametri della regola dell'arte, quindi forma degli elementi, resistenza, spalzamento dei giunti, orizzontalità, ammorzamento interno, qualità delle malte. Grazie a tutti! Grazie a tutti!